Ciao a tutti, oggi io e il Pigunio vi abbiamo portato in Val Noana, nel sentiero degli abeti giganti. Questa è stata un'iniziativa promossa dal Parco Naturale di Paneveggio per far vedere il grosso patrimonio boschivo della valle. Questo patrimonio boschivo è formato soprattutto da abeti bianchi, da abeti rossi e da faggi. È quasi tutto sotto nel comune di Mezzano e arriva ad un'altezza di 1600 metri. L'inizio di questo sentiero, diciamo, degli abeti giganti parte da questa scultura che è stata ottenuta da un abete secolare. È una passeggiata molto bella, ci sono due percorsi, uno da 2 km e uno da 8, immersi in questo veramente spettacolare bosco. Ciao a tutti!